C'è tensione attorno alle ultime decisioni prese sull'ospedale di Agropoli. Un ordine di servizio del direttore del DEA Vallo Agropoli, Adriano De Vita, come reso noto dalla CGL nei giorni scorsi, dovrebbe portare dal prossimo 24 aprile a chiudere l'area critica Covid e a riattivare il reparto di medicina, anche se solo H12. Insomma, un ritorno alla situazione pre-Covid, che poco va giù a cittadini e rappresentanti politici agropolesi che avevano sperato di conservare i privilegi e i numeri acquisiti nel corso della pandemia quando l'ospedale di Agropoli è stato in prima linea. Invece, la chiusura dell'area critica Covid potrebbe significare stop anche alla terapia intensiva, alle sale operatorie e, in generale, un ritorno dei medici dirottati qui per combattere il virus ai loro posti originari. Di certo è stato già annunciato il trasferimento di 15 infermieri a Vallo. Inoltre, il ricovero in medicina, secondo quanto disposto dalla direzione, sarà riservato esclusivamente a patologie non urgenti e, pertanto, avverrà con procedura programmata. Questo, unito al fatto che medicina sarà attivo solo per 12 ore, facendo sì che nel restante orario sui medici del pronto soccorso ricada anche il lavoro del reparto, ha iniziato a sollevare lamentele contro un ridimensionamento del presidio di Agropoli. È la solita linea che va verso il depotenziamento delle aree periferiche, ha commentato il consigliere di opposizione Raffaele Pesce. Ormai siamo disillusi. Un semplice reparto di medicina attivo 12 ore e senza fianco altri reparti che lo coadiuvino non può soddisfare le esigenze di un territorio. Il reparto Covid poteva trovare altri tipi di impiego, come quello per la somministrazione di farmaci oncologici. Invece, continuano ad inaugurare qualcosa per poi limitarne la disponibilità. Attenta a quanto sta accadendo è anche l'amministrazione comunale di Agropoli, che essendo ancora tutto in itinere, attende di avere notizie più concrete a breve.